Ciao a tutti, mi chiamo Omar, ho 30 anni e da 10 sono cuoco in un'azienda di ristorazione. Ho un contratto a termine, part time, non so neanche se riotterrò il lavoro alla fine del progetto. Vi dirò, a me fare il cuoco piace. È un mondo fatto di cibi, vini, sempre in mezzo tra innovazione e tradizione e io passo sempre molto tempo a innovare, a informarmi e a documentarmi. Ormai è diventato molto facile documentarsi tra internet e tv, ci sono un sacco di programmi e siti dedicati all'argomento, che però purtroppo trattano solo di cucina. Perché in realtà il mondo della cucina è un mondo che si regge sullo sfruttamento, sullo sfruttamento di centinaia di migliaia di giovani come me che arrivano per fare curriculum e gli viene risposto con sfruttamento, sottopaga e assolutamente nessuna garanzia per il futuro. Secondo voi cosa c'è dietro un piatto di tagliatelle o programmi come Italia o Masterchef? C'è il lavoro di un sacco, un sacco, un sacco di cuochi, persone, aiutanti, un sacco di persone che non riescono ormai più ad andare avanti. E quindi mi rivolgo a voi per se non riuscite più ad andare avanti. Cosa succederebbe se il 14 novembre facessimo uno sciopero di settore, di tutti i settori? Fate come me, io il 14 novembre incrocio le braccia. Fate come me, io il 14 novembre.